Ciao ragazzi, in questo video vedremo come possiamo raccogliere email per una certa azienda o dominio. Poiché le email sono informazioni pubbliche, possiamo testarle su qualsiasi dominio. Verificheremo due diverse opzioni, uno strumento chiamato Harvester, che di default è installato all'interno di Kali Linux, e un sito web chiamato Hunter.io. Cominciamo con Harvester. Quindi clicchiamo col pulsante a destra del mouse e apriamo Open Terminal IR. Ora digitiamo the Harvester e premiamo invio. Mi raccomando, the Harvester deve essere con la H maiuscola, altrimenti non vi riconosce il comando. Qui ci appare il banner del programma e qui un mini menu di aiuto. Inoltre, come possiamo vedere, c'è un errore. Ci dice perché abbiamo eseguito il programma senza argomentazione, quindi perché serviva il parametro menu di, il dominio. Quindi eseguiamo the Harvester, meno meno help, per vedere esattamente i parametri da inserire. Come possiamo vedere nei parametri, c'è il menu di, quindi lo specifica del dominio, il limite che è di 5 a 100, quindi i risultati saranno 5 a 100. Poi altre opzioni che non ci interessano e poi la sorgente. Quindi possiamo scegliere dove cercare i risultati, se lo vogliamo, tra Bing, Google, LinkedIn, Twitter, tutti questi che vediamo qua. Oppure tutti, noi metteremo tutti. Così abbiamo una vasta scala per la nostra ricerca. Bene, ora puliamo lo schermo col comando clear ed eseguiamo il comando, e poi eseguiamo il comando the Harvester, meno d, mass.bg.ac.rs, meno b, all. Questo è il solito sito universitario per eseguire i nostri test. Diamo invio. Ovviamente ci tengo a precisare che potete utilizzare qualsiasi altro sito, quindi non rischiate nulla. Fa una semplice ricerca delle email all'interno di quel dominio. Quindi ora vedremo che cercherà nomi host, nomi utente e le email. Vediamo un po' i risultati. Lasciamolo scansionare. Avremo un massimo 500 risultati. Dunque ora vediamo che ha trovato 10 utenti. Ok, poi all'interno di Bing non ha trovato nulla, GitHub niente, 9 IP trovati e basta. Ovviamente questo non è il risultato che cercavamo. Dovevamo trovare qualche indirizzo email o forse qualche nome utente. C'è una cosa in questo tool, Harvester. Preso dalla mia esperienza personale, questo strumento non sempre funziona. Ci sono giorni in cui dà risultati sorprendenti, ma ci sono giorni in cui non trovo alcune email. Quindi ora proveremo a fare una scansione col parametro sempre meno B specificando la piattaforma Google. Quindi non più tutti. Vediamo andando magari sullo specifico se trova qualche risultato. Quindi digitiamo sempre The Harvester, meno D, indirizzi IP universitari che abbiamo messo prima, questo è un mass BGACRS, meno B, Google. E vediamo un po' cosa ci dà. Ecco, se in questo caso non riusciamo a ottenere risultati, basta provare lo stesso comando più tardi oppure domani. Vi posso garantire che di solito vi darà un risultato diverso. Come possiamo vedere non siamo riusciti a trovare nulla con questo. E allora abbiamo ottenuto una seconda opzione. Quindi recchiamoci sul sito internet hunter.io e vediamo un pochettino. Dunque al centro della pagina vediamo questo campo di ricerca. Qui dobbiamo insegnare e inserire il nostro dominio come abbiamo fatto prima. Quindi volendo possiamo inserire lo stesso indirizzo che abbiamo utilizzato prima su The Harvester per provare a vedere se dà risultati differenti. Quindi proviamo un po'. Inseriamo il nostro indirizzo. Un attimo che zoomo la pagina se non vedete niente. E poi premete su Find Email Address e siete pronti per la ricerca. E attendiamo i risultati, vediamo un po'. Ecco, abbiamo visto che appena premuto il pulsante ci dà già dei risultati di email. Ci dà 320 email in indirizzo email. Quindi il risultato già è sorprendente a differenza dell'altro programma di Harvester che ci ha dato questo risultato nullo. Altra cosa che sicuramente avete notato è che sì è vero che trova 300 risultati ma per visualizzarli tutti dovete creare un account. Altrimenti vi limiterà solamente ai primi 5 indirizzi. Quindi potete creare un account e provare e vedrete un pochettino che è. Vedrete sicuramente tutti gli indirizzi completi. Quindi ora facciamo il test dal mio account. Come vedete è free plan, quindi è gratuito, dovete soluzionare i vostri dati. Inseriamo lo stesso indirizzo e vediamo un po' che riusciremo sicuramente a visualizzare i risultati in chiaro. Ma non tutti ai 300. E come opzioni possiamo anche spuntare di esportare questo risultato in estensione CSV. Quindi potete esportare tutto il risultato in un file di testo. Quindi ci li avete... Sono tutti ordinati per tipologia di mansione. Quindi questo è uno sviluppatore di tecnologie, un ingegnere di produzione, un altro ingegnere. Quindi abbiamo il nome utente, nome cognome, dimensione e email. E abbiamo le informazioni che diciamo ci interessano. L'unica problematica è che se vogliamo avere 300 e più risultati, dobbiamo fare l'upgrade dell'account. Quindi un account a pagamento. Però se vi bastano questi risultati potete lasciare così. Lo vedremo più avanti cosa utilizzare per vedere diciamo più risultati. Un carvester rimane una soluzione gratuita ma dovete avere pazienza sui risultati. Il lato negativo della versione a pagamento è che è abbastanza cara. Quindi qui sotto potete vedere quali sono le scelte del piano che avete a disposizione per l'acquisto. E potete vedere un bel po' le richieste che potete fare. Quindi questo ha mille richieste. Quindi risultati. Ne hanno abbastanza. Quindi se volete farlo a pagamento siete liberi di farlo. Però io utilizzo Harvester. Versione diciamo per non spendacioni. Più avanti faremo noi, costruiamo noi uno strumento in Python. In linguaggio di programmazione. Che sarà in grado di raccogliere ancora più email di un determinato dominio. Nel prossimo video vedremo come possiamo installare alcuni strumenti aggiuntivi di cui potremo aver bisogno per la raccolta di informazioni. Ciao ragazzi.